Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale. Oggi faremo la sfida di chi fa più flick in 30 secondi. Allora, inizia Chiara. Quando sei pronta mi dici via. Vado? Via! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Fari bene, eh? Nove, dieci. Mancano dieci secondi. Undici, dodici, tredici. Quattordici, quindici, stop. Brava! Quattordici. Com'è andata? Quindici. Quindici? Quindici. Quindici. Chi tocca ora? Come si ferma sto orologio? Come hai fatto? Bene, seconda mira. Concentrati. Pronta? Tre, due, uno, via! Uno, tre, quattro, cinque, sei, sette, stop! Otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici. Mancano dieci secondi. Piano! Sedici, diciassette, diciotto, diciannove. Stop! Ok, diciannove. Brava, Ami! Balanelli! Dimmi tu quando ci sei, eh? Tre, due, uno, via! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, stop! Dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto. Mancano dieci secondi, calma! Diciannove, venti, ventuno, ventidue, ventitré. Stop! Bravissima, ventitré, un super record, eh? Quasi uno al secondo. Super, Nelly! Stai bene? Sei viva? Guardami, dimmi che sei viva. Sei ventitré. Ventitré? Nelly, aspetta che abbiamo un morto sulla striscia. Sono viva! Ventitré, bravissima, Nelly, super! Elenina! Siamo prontissimi? Cosa vuol dire? Devo guardare un attimo sul film. Pronti? Tre, due, uno, via! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, sette, stop! Diciassette o diciotto? Mi sono persa. Diciassette, brava, Nelly! Un momento di privacy. Un momento di privacy. A 150 mi piace faremo una nuova sfida. Al prossimo video! Allora! 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 Grazie.